Ciao tutti amici nero azzurri, italiani, azzurri, chiamatevi come volete Oggi niente inno, ma è la prima partita da dentro fuori, sono gli ottavi di finale È Svizzera-Italia Testa Ve l'avevamo detto che con la Croazia l'ultima giornata del girone non ci saremmo stati Oggi alle 18 ci siamo 90 minuti di fuoco, forza Italia Volevo da Svizzera 36esimo, Svizzera in vantaggio 1-0 E ora bisogna ribaltarvi Grande buco, grande buco Italia che sta giocando ancora una volta malissimo Poi, neanche un'occasione, non è un gol Prima occasione, gol per la Svizzera, 1-0 Eh, questa è l'ultima Questi gol, ragazzi Oh, zio, 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 non so che sia successo Ha fatto palo, parata, palo Palo, palo Le aveva col palmo sul palo, la palo Palmo, pala, palo Finisce qui un altro bruttissimo primo tempo Lo dici del frale, 1-0 per la Svizzera 1-0 per la Svizzera 1-0 per la Svizzera 1-0 Oh, zio, ma veramente Ma veramente Appena iniziata, raga, Vargas, 2-0 E ci stavamo ancora vestendo Perché non ci sono 200 gradi Anche te, con gli stai detto Non ci posso credere, non è vero Una roba così Che cosa ho fatto? Non ho visto nulla Io stavo prendendo una cosa lì e ho fatto ancora l'altro 2-0 Svizzera, ragazzi È tutto vero Incredibile Vabbè, cosa avevamo tutti, ma se lo stanno prendendo L'ho preso l'SD L'ho recuperata, ma È 2-0 Svizzera L'ho fatto Così Vediamo come l'ho fatto Non ti fermi Super gol Finisce qui La Svizzera batte l'Italia 2-0 L'Italia è fuori dagli europei Partita, vabbè, imbarazzante Scandalosa Chi più ne ha più ne metta Finiscono qui le reaction di questa stagione Perché con oggi si chiude Definitivamente la stagione qui su YouTube L'estate è molto lunga Ci saranno le viste mediche Già a partire probabilmente da martedì Staremo a vedere Poi la stagione in realtà Tra dieci giorni Da piano gentile si ricomincia Sarà un'altra stagione lunghissima Ma questo sarà tutto poi in un altro video In altri video E in altri giorni Questa invece era la live reaction di Svizzera Italia La Svizzera batte 2-0 l'Italia E gli butta fuori Ci butta fuori Da questo europeo Italia da campione in carica Esce così Agli ottavi di finale Se il video vi è piaciuto mettete la like Condividete e iscrivetevi al nostro canale YouTube Scrivete la campanella Per seguito di tutti i nostri video E tutte le nostre ragazze Passate a tutti i nostri social Che trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Una prossima live Forza Inter E forza Italia